Facciamo dieci ragazze che si alzino in piedi anche al posto del signore Signore, vabbè ma ragazze, ragà, ma ragazze Ma Giulia, voglio Dio Ma non importa l'età Io ho quel bambino lì che suona la batteria Non parte la batteria se non... No, infatti, come si fa? In piedi, in piedi Qua, se no, come si fa? Dai, 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 forza Dieci ne vogliamo, avete qui Non è che dovete fare... Eccoli qua, eccola Eccoli Signore, anche da lì, eh Vi chiedono le ragazze dentro Solo una canzone La canzone della Buonanotte Insomma, la vogliamo fare tutti qua Ok, bene, 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 bene Ok, non ci possiamo mettere qua Grazie Tre, quattro, cinque, sei, ma lui non vale. Quello con i baffi no, eh. Quello con i baffi no, no. Sette. Tre, sei, sette. E non c'è ancora tre, signore e signore, ancora tre. Eh? No, facciamo i fischi, certo, perché sennò questo pezzo non può partire se non ne abbiamo almeno dieci. Se sono di più è mezzo. Forza, forza, tre, sei, otto. Altre due. Ultime due non volontari che si recano qua davanti, cortesemente. Allora, una è l'incalza la mano. Perfetto, ma se non ti vedo ballare, guarda che vengo lì, eh. Guarda che vengo lì. Siamo a nove, virtualmente, con quella su che fa ciao ciao con la marina. E c'è un'altra che fa dieci, con l'altra guanina così. Però, a undici, eh. Vai, 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 vai. E' meglio se sono di più. Però adesso vi voglio vedere scatenarmi, eh, ragazza. Ma si sente su? Sì. Fate così con la mano lassù. Ecco. Ok, allora vediamo un po'. Ho visto un uomo che moriva per l'amore. E ho visto un altro che ha più lacrime e non ha mai. Nessun coltello a pari, non può ferirmi più. E' un grande bambino che mi stringe al cuore. E' un grande bambino che non può fare. E' un grande bambino che mi stringe al cuore. non è solo una memoria che c'è una casa in corbe solo a te e me una volta per te non è sempre la parta una volta per te non è sempre sempre il mio figlio una volta per te non è sempre la perte ma che non è sempre la perda e che c'è una casa in corso è sempre la perda e alla a parte è sempre la perda e che c'è unaollar ciò che c'è una cosa io туда ragazze per me non posso ripostare 10 ragazzi per me non voglio con l'identità mi cantami più, non voglio con la ragazza e la tavola c'è sulla quale morirei 10 ragazzi così che non saranno sì voler sapere che è tempo che io vivo tu senza te matto, quello è proprio matto perché io forse non so che posso averne per il giorno e per il giorno e per la sera e la figlia tu mi conosce perché detto una cosa fina 10 ragazzi per me 10 ragazzi per me 10 ragazzi per me però io voglio perdere 10 ragazzi per me 10 ragazzi Ah, mi faccio la mia band Va bene, li facciamo ancora allora? Sì! Motocicletta, 10 HP Tutta cromata, è base di gizzi Mi costa una vita, niente di andare Ma il cuore è malato e sempre guarirà Non dire no Non dire no Non dire no E non dire no 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 Bello E prendi tutto quella mia Mi basta andare un po' di condig lire Ma le tue braccia così, domani poi diventi male, domani, ma adesso, adesso ti mi direi, sì. Bravissimi! Luce alla collina dei C10. Alla voce, subito forte, giochiamo, Alessandro! Alla batteria, la parte percussiva che mi fa ballare, Bafo! Bafo e chitarra vanno presentati contemporaneamente, c'è poco da fare, perché gente ancora li confonde e dice, tu sei chitarrista, tu sei chitarrista, noi soffermi perché, dice, ma i bassisti sono permalosi, i bassisti sono permalosi, mamma mia, sì, sì, grazie. Ma però, perversa la male, dice, sono chitarrista e tutte le donne, scoppa, là, è un attimo, è uno spostamento, è un attimo. E signore e signori, Fabrizio, alla chitarra, agli racconti, alle voci, a tutto quello che ho, purtroppo, quello che non ho è un attimo. E ringraziamo davvero la Lega Navale, nella persona e soprattutto del Presidente Cesare, Ave Cesare. Ringraziamo però, in generale, tutto il salento che ci sta ospitando, perché comunque noi siamo una presenza abbastanza ingombrante, vedete, non è che siamo proprio leggeri, leggeri. E ancora, se volete, ci trovate su Lucio e la Corriera dei Ciliegi, questa è la marchetta, Lucio e la Corriera dei Ciliegi, sulle pagine social. Un applauso ancora ad Alessandro, che senza questo voce qua, dove si va, dove si va? Grazie a tutti. Grazie a tutti.